Sono Elia Bellussi, presidente del Museo Piemontese dell'Informatica, un'associazione culturale nata nel 2011 con lo scopo di preservare, recuperare e divulgare la storia dell'informatica. L'associazione è formata da volontari che donano il proprio tempo e che negli anni hanno recuperato oltre 10.000 volumi, 6.000 computer e migliaia di pezzi di memorabilia. Negli anni l'associazione ha organizzato svariati eventi, ha aderito all'Ada Lovelace Day, un evento sulle donne in ambito STEM, ha organizzato Abito Vistory, una mostra con conferenza sulla storia dell'informatica e ha aderito alla fondazione Coder Dojo con l'intento di organizzare laboratori di programmazione e di robotica per ragazzi dai 7 ai 14 anni. Purtroppo il museo nel novembre 2016 ha dovuto affrontare una situazione critica, l'alluvione che ha colpito tutto il Piemonte. Abbiamo fatto tanto per recuperare il materiale presente nei magazzini ed è qui che chiediamo il vostro aiuto. Potete supportarci con una piccola donazione oppure venendo a dare una mano durante le nostre attività. I nostri contatti potete trovarli sul nostro sito o sulle nostre pagine social. Vi aspettiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.